Sarà ballottaggio e come sempre inizierà una nuova partita. In dubbio il vantaggio di partenza di Di Girolamo, ma anche Massimo Grillo potrà giocarsi le sue carte, ad iniziare da alcuni aspetti del voto che ha visto penalizzare non poco l'ex parlamentare. In primo luogo l'evidente handicap che vedeva avvantaggiare il candidato democratico con una campagna elettorale iniziata già a gennaio con le primarie che di fatto lo lanciavano verso la poltrona di primo cittadino. Tanto che sino ad aprile sembrava fare corsa a sé, senza concorrenti, e con in più alle spalle l'unico partito organizzato in Italia che può ancora oggi dire la sua all'elettorato. Dimostrazione è stata infatti che ben dieci candidati, targati IPD, hanno fatto bottino pieno, trainando il candidato sindaco. Questo sarà più difficile da trasportare automaticamente al secondo turno. Così come alcune faide interne alla coalizione di Grillo saranno più smussate. Ad iniziare da un voto di giunto che avrebbe visto in maniera significativa segnare il nome di Girolamo nelle schede Forza Marsana. Lista di derivazione berlusconiana che ha dovuto subire la sua candidatura per essersi trovata colpevolmente in un angolo politico e senza uno straccio di nome, ancora prima di una sembianza di coalizione. Così è dovuta ripiegare su Grillo, candidato per nulla amato dai maggiorenni Forza Italioti, e subire pure l'onta del niet per il suo simbolo ufficiale. Anche in questo caso, il non doversi recare le urne per i propri candidati al Consiglio potrebbe rivelarsi un vantaggio per chi deve rincorrere. Altra variabile sarà l'incognita a Lombardo. L'ex sindaco di Marsala lunedì sera ha ritenuto di andare al comitato di Grillo e di metterci la faccia. A fianco del candidato è intervenuto con parole durissime verso gli alleati, imputandoli nella sostanza di voto disgiunto. Anche qui bisognerà capire le intenzioni del notaio se vorrà davvero scendere in campo in questo secondo turno. In favore del candidato Dem, però, è altrettanto vero che avrà il vantaggio storico di un voto più convinto da parte della sinistra che si è sempre recata in maniera massiccia col proprio corpo elettorale per eleggere i propri sindaci nei ballottaggi. Insomma, tutte chiave di lettura che lasciano la partita aperta. Nel frattempo, stamattina, Di Girolamo in una conferenza stampa ha fatto il punto della situazione sul voto del primo turno. Ascoltiamolo. L'analisi è quello che i marsalese vogliono cambiare veramente. Insomma, hanno avuto fiducia in Alberto Di Girolamo. Purtroppo, per un centriamo di voti, non siamo adesso al comune a incominciare a lavorare, però sicuramente lo saremo fra 10-12 giorni. La città ha capito il messaggio. Io ringrazio tutti i marsalesi, tutti i cittadini che hanno messo una X sul mio nome, ma anche tutti gli altri che hanno votato le liste che erano con me perché probabilmente la difficoltà, così la gente pensava magari votando Alberto Di Girolamo, segretario del PD, che andasse a partito, così cambiamo Marsala, insomma, e anche le altre liste. Però dico, sono contentissimo perché non era scontato avere tutti questi voti e soprattutto avere questa differenza di voti. Fra me e Grillo, oltre 5.000 voti, quindi la differenza è enorme, abissale, la gente si è pronunciata. La legge è questa, mancavano 200 voti, andiamo a ballottaggio e sicuramente vinceremo perché non credo che i marsalesi vogliono non cambiare questa città in questo modo.